Negli ultimi tre mesi, alla sede di liceo classico e musicale Alfonso Gatto, in via Pio X, si è concluso il progetto di crowdfunding ad ottonaula, che ha come scopo il miglioramento degli ambienti scolastici. Noi tutti siamo a conoscenza delle problematiche che le scuole italiane affrontano quotidianamente in tema di sicurezza. Infatti, ci sono innumerevoli casi in cui i studenti vivono la vita scolastica in ambienti non adeguati, poco accoglienti e poco sicuri, perché la manutenzione della scuola risulta compromessa dalle scarse risorse economiche degli enti preposti. Il progetto è finanziato dal crowdfunding, una raccolta fondi di piccoli contributi di gruppi molto numerosi di persone che vogliono finanziare un progetto comune e vogliono sostenere un'idea innovativa. I consigli del progetto hanno trovato la realizzazione nella sostituzione degli infissi di porte e finestre nella nostra scuola di una sola ala, tuttavia l'altra ala è ancora da ristrutturare per mancanza di fondi. Gli studenti del liceo Alfonso Gatto vogliono ringraziare unanimamente la dirigente Anna Vassallo per l'iniziativa che non ha voluto sostituirsi agli interventi di manutenzione ordinari o straordinari dello Stato, ma che hanno voluto dare una risposta concreta alle necessità degli studenti. In conclusione, poiché la ristrutturazione non è completa, facciamo appello a tutti i potenziali investitori che hanno a cuore l'istruzione dei propri figli affinché possano rendere la scuola un posto migliore.